Siamo al 61, Milanato, il parere è contrario. Lo votiamo? Dichiaro aperta la votazione. Va bene? Qui davanti... Allora, bene, hanno votato tutti, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 51, contrari 313, la Camera respinge. Allora il 62 è accettata la riformulazione, dunque c'è il 63, Milanato, il parere è contrario. Lo votiamo, deputato Palese? Sì. Dichiaro aperta la votazione. Carra. Allora, ci siamo? Sì, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 128, contrari 308, la Camera respinge. Siamo all'ordine del giorno 66, a Brignani, il parere è contrario, dunque lo votiamo. Dichiaro aperta la votazione. Palma. Fossati. Ci siamo? E' chiusa la votazione. Favorevoli 53, contrari 310, la Camera respinge. Sì. Sì.